Ciò che in molti temevano si è avverato. Non un semaforo, ma il semaforo che regola la circolazione stradale in tutta la città di Padova è diventato rosso. Troppo alta e prolungata la concentrazione di PM10 nell'aria. Le colonine dell'ARPA vanno registrato sforamenti per 10 giorni di fila. Una situazione tale da far parlare l'assessore all'ambiente Chiara Gallani di pericolo per la salute pubblica e consigliare che bambini, anziani, asmatici e animali non stiano all'aperto se non necessario. L'arrivo per la prima volta dell'allerta rossa a Padova significa anche il divieto di circolazione di veicoli a benzina privati e commerciali Euro 0 ed Euro 1 e di veicoli diesel privati e commerciali Euro 0, 1, 2, 3 e 4, oltre a motoveicoli e ciclomotori a due tempi matricolati prima del 1 gennaio 2000. Purtroppo economicamente è un problema. Qualsiasi cosa che blocca una filiera di trasporto, abbiamo visto anche a livello nazionale e tutto il resto, c'è un PIL che si abbassa. In questi momenti abbassare il PIL in un momento di pseudo-crisi o non-crisi è una cosa complicata. Forse in questi giorni, ha detto l'assessore Gallani, possiamo rinunciare ad usare l'automobile una volta di più, organizzare un carpooling o considerare di abbassare di un grado la temperatura in casa o in ufficio. Ma al di là di questo ciò che chiedono le categorie economiche alla politica è una programmazione a lungo termine. La programmazione deve essere fatta con gli anni che avvengono, in due o tre anni. E poi fra tre o quattro anni, quando non ci saranno più a diesel e saranno solo metano ed elettrico, ci sarà ancora un problema di ambiente, di traffico? Non lo sappiamo perché gli studi qua, uno dice che va bene, uno dice che non va bene, qualcuno dice che l'elettrico consuma più del diesel, qualcuno dice adesso che il diesel consuma meno dell'elettrico, è il contrario. E noi dobbiamo lavorare. C'è preoccupazione perché ho colleghi del Nord Italia che mi chiamano che c'è un po' di recessione, l'automotive si è fermato, fermandosi l'automotive, che è uno dei principali settori che trainano, crea preoccupazione. Viviamo la giornata.